In berbe, se non ne conosce il significato, questo è uno di quei termini che proprio va ricercato sul dizionario, con in berbe si fa riferimento ad una persona che non ha barba e guardando le risposte proposte il sudo è esattamente l'opposto, è una persona che ha molta barba, lo stesso ispido, villoso, labbro non fa riferimento alla barba o meno, quindi evidentemente il significato più prossimo è quello riportato dalla risposta B, raso, cioè senza barba, senza barba per l'appunto. Domanda numero 11, alleviare. Quali sono le risposte proposte? Nutrire, invogliare, allettare, alleggerire, attirare. Con alleviare, pensa a dei malati, quando si dice alleviare i dolori, le sofferenze, le pene di una persona, significa proprio cercare di ridurre le pene. E quindi evidentemente tra i termini proposti quello che più si avvicina al significato di alleviare e alleggerire, proprio nel senso di ridurre le pene, le sofferenze di una persona, o in altri casi il carico anche di lavoro, se vogliamo pensare ad un ambito differente. Bieco. Allora, quali sono le proposte per la parola bieco? Abbiamo mite, dritto, profondo, seduto, sinistro.